Ora come da programma diamo la parola al professor Stefano Rodotà per il suo keynote introduttivo Io sono ovviamente grato al Politecnico di Torino in particolare al professor Juan Carlos De Martin per questo invito anche se sinceramente non so fino a che punto io possa spingere la mia gratitudine data la difficoltà del tema che mi è stato assegnato Potrei cominciare dicendo che quando si parla dell'università siamo di fronte a quella che potremmo definire una success story un successo che dura dall'ultimo quarto del dodicesimo secolo che è cominciato da queste parti se è vero come la storia ci racconta che l'università è stata inventata in quegli anni a Bologna La parola ha continuato a essere viva e qui indica il tema di questo convegno proiettata nel cyberspace e tuttavia a questa parola progressivamente hanno finito con il corrispondere modelli diversi e questa non è necessariamente una valutazione negativa forse al contrario è il segno di una duttilità di una flessibilità intima di una capacità di adattarsi a situazioni storiche e a condizioni culturali assai diverse continuando tuttavia ad assolvere quella funzione che aveva ispirato la sua idea d'origine Ora noi ci chiediamo in questo momento se quella storia può continuare nel tempo cambiato che stiamo vivendo in un futuro che ci sembra sempre più marcato da discontinuità legate all'innovazione scientifica e tecnologica avete sentito poco fa Charles Nelson formulare esattamente questa domanda può sopravvivere l'università in questo contesto così profondamente cambiato non è che io voglia essere a ogni costo ottimista ma ho partecipato nella mia lunga vita a troppe discussioni intorno alla morte dell'università per poter affrontare se non altro con uno sguardo libero da eccessi di pessimismo un tema così obiettivamente impegnativo certo la situazione italiana non autorizzerebbe agli ottimismi in questo momento perché in qualche istante almeno sembra piuttosto assomigliare alla storia di una morte annunciata e tuttavia proviamo a guardare al di là di quelle che sono alcune condizioni che naturalmente ci auguriamo essere transitori e cerchiamo anche di capire allora quali sono i nesti tra una discontinuità evidente e una continuità altrettanto marcata questo ci dice immediatamente che non è possibile semplificare la situazione che abbiamo di fronte faccio due esempi piccoli che mi consentono di entrare più direttamente nella complessità appunto della materia la prima considerando due aspetti fondamentali della questione dell'università e cioè l'università come comunità e l'università come organizzazione gerarchica basata sull'autorità del sapere primo esempio l'open university sapete che l'open university viene inventata in Inghilterra nel 1969 comincia a funzionare nel 71 io non esaminerò questa che è un'esperienza molto complessa ma la banalizzerò per certi aspetti dicendo poi tutto sommato l'esperienza dell'open university cioè di un insegnamento a distanza verranno poi altre formule l'università telematica la formula riassuntiva l'e-learning l'insegnamento a distanza ci dice già molte cose l'accento posto sull'insegnamento e-learning pone immediatamente una domanda siamo di fronte a una separazione tra l'insegnamento e la ricerca che è stato invece l'elemento costitutivo della storia dell'università e di più l'open university e tutte queste forme a cui ho fatto sommariamente riferimento hanno sfidato quella che io chiamerei la fisicità dell'istituzione universitaria l'istituzione universitaria è stata concepita costruita costruita intorno a spazi in qualche modo chiusi il campus americano è in questo senso il modello più evidente di questa fisicità dell'istituzione fisicità sul territorio ma ci sono quelle che chiamiamo città universitarie sono città ma il connotato viene dalla università in tutto o in parte si possono fare tantissimi esempi dai chierici che salgono sulla montaigne Saint-Genevie a Parigi e creano la Sorbonne a Oxford a Cambridge al centro di Bologna infiniti esempi di questo genere il sistema dei college il sistema dei college è non chiudere il sapere in alcuni luoghi ma indicare dei luoghi deputati alla produzione del sapere non c'è dubbio che questa struttura fisica dell'università è sfidata dalla Open University dall'insegnamento a distanza che trasferisce questo mondo chiuso nel mondo aperto e nello spazio aperto del cyberspace la domanda è comunità l'università tradizionale comunità virtuale domanda la nuova dimensione ho qualche dubbio sulla possibilità di riprodurre questo modello e faccio un esempio che può sembrare un come dire un uscire un po' dal seminato ma che mi può aiutare c'era una formula legata proprio alla fisicità alla concentrazione delle persone al luogo deputato dello svolgimento di un'attività che era la fabbrica la fabbrica è stata per molto tempo chiamata l'università della classe operaia perché era un luogo nel quale si raccoglievano persone che condividevano non solo un destino di lavoro e di vita ma anche di reciproco apprendimento del sapere l'organizzazione del lavoro determinata potentemente dalle nuove tecnologie ha fatto scomparire questa università la fabbrica come università della classe operaia e dunque e non si è ricostituita e non è possibile ricostruire nelle nuove forme di organizzazione del lavoro quel tipo di relazioni personali e culturali che esistevano precedentemente dunque questa è una domanda che dobbiamo farci non per negare l'importanza delle nuove forme ma per vedere come perché l'open university tutte le forme di insegnamento a distanza non hanno distrutto l'università tradizionale ci dobbiamo a differenza di quello che è avvenuto per la fabbrica università della classe operaia e quindi ci dobbiamo chiedere le modalità oggi di questa convivenza le integrazioni il fatto che alcuni aspetti del modello ricerca poi si ritrovano in alcuni modi di organizzazione delle open university e come questo abbia e se tutto questo abbia contribuito a incrinare a rendere più debole il modello tradizionale dell'università oppure se in tutto questo non ci siano anche elementi che contribuiscono a una diversa sopravvivenza di quel modello tradizionale di nuovo quello vorrei dire non adoperiamo con troppa facilità le categorie discontinuità continuità è vero che la tentazione forte di fronte alle rivoluzioni tecnologiche è quella di dire c'è una discontinuità radicale è bene essere prudenti in questa materia secondo esempio dirò in modo molto diretto e quindi schematico che forse siamo di fronte anche a un passaggio dall'ordinamento gerarchico al sapere peer to peer un'esperienza di un vecchissimo professore quale io sono quando in anni lontani io assegnavo una tesi di laura discutevo con lo studente l'assegnazione di una tesi di in aula e l'individuazione di un tema il passo successivo era a fornitura allo studente di una bibliografia che era il risultato di la maggiore o minore cultura vera o presunta del docente che indicava qual era il percorso di ricerca che lo studente doveva fare quella bibliografia segnava il percorso di ricerca lo studente l'arricchiva certamente però era lì che non solo da lì partiva il suo lavoro ma si svolgeva e in più il controllo esercitato sul lavoro da parte del docente che seguiva il laureando era fondato sul fatto che quel sapere era già molte virgolette tutto posseduto dal produttore di quella bibliografia che cosa è avvenuto da un certo momento in poi esperienza non riflessione lo studente il laureando arrivava e diceva io ho letto le cose che lei mi ha dato però ho trovato su internet tutte queste altre cose questo è immediatamente un cambiamento perché la mia reazione che in passato qual era era la reazione di chi diceva beh tu hai letto delle cose che anch'io ho già letto prima di te tanto che te le ho indicate voi sappiamo vero non vero ma discutiamo a questo punto io ero costretto a dire adesso lei mi lasci le indicazioni oppure lui arrivava già con le cose stampate e mi deve dare tempo per leggermele e ne riparliamo è un fatto di onestà intellettuale che già esisteva prima mio collega della facoltà di IEL mi dissero i suoi studenti che quando gli si poneva una domanda non aveva l'attitudine un po' spocchiosa dell'accademico che comunque doveva dare una risposta spesso diceva lo saprò domani ecco il problema di lavorare però che cosa cambia in questo modo primo cambia la logica puramente gerarchica non sono io sovraordinato proprietario di un sapere di cui disegno i confini e di cui ti do una chiave di accesso io a quel punto devo discutere con lui mi devo preparare diventa più impegnativo forse forse una quota di potere viene trasferita appunto dal professore a internet ma anche una quota elevatissima di responsabilità perché qui si torna di nuovo al gioco continuità discontinuità viene non solo ripreso ma enormemente sottolineata la responsabilità critica dell'istituzione universitaria l'università non è un luogo di elaborazione dommatica di trasmissione autoritaria del potere trasmissione lo dirò più avanti almeno nel modo corretto di intendere la storia dell'università costruzione di sapere critico sapere critico tanto più necessario perché la forza l'avete già sentito nella conversazione di stamattina e comunque lo sapete e comunque lo sperimentate credo continuamente nell'uso di internet c'è una forza di legittimazione del prodotto che arriva da internet molto elevata e dunque l'esercizio del sapere critico a questo punto è quello di dire ma bada che questo non è rilevante questo è ripetitivo questo è addirittura sbagliato e quindi c'è un problema di ricostruzione in qualche misura anche del potere gerarchico del docente ma non credo che sia questo e soprattutto il trasferirsi in un'altra dimensione all'origine l'università vado proprio alle origini lontane era definita la parola università viene indica una comunità una qualcosa di comune universitas magistrorum et scolarium dei professori e degli studenti tra l'altro con un potere enorme degli studenti gli studenti erano quelli che pagavano e sceglievano essi i professori via via questo modello si è trasformato e l'università è diventata l'universitas magistrorum l'università dei professori la domanda è attraverso l'esempio piccolo della tesi di Laura che può essere esteso complessivamente al lavoro che si fa nell'università se non ci sia un recupero di quel modello originario in cui gli attori erano sì i professori ma erano anche su un terreno di parità gli studenti faccio questi esempi che possono essere anche messi in discussione per mostrare come il gioco della complessità in questa materia è molto elevato e come continuità e discontinuità si intrecino molto spesso certo la rottura della comunità l'idea dell'università come studium generale con interazioni molto forti tra tutti coloro i quali si trovavano in questo luogo e in questa comunità ha prodotto soprattutto nella fase più recente fenomeni come l'iper specializzazione e la professionalizzazione estrema dell'università e allora ci sono dei punti che noi dobbiamo valutare perché nella storia dell'università c'è anche un mantenere distanza dal sapere puramente professionalizzato io faccio un esempio che trago ovviamente dalla esperienza di chi fa di mestiere giurista ci è voluto molto tempo perché l'insegnamento e lo studio del diritto in un paese come l'Inghilterra che pur aveva importato quel modello perché all'inizio del tredicesimo secolo quel modello arriva ed è Oxford che segue Bologna Parigi Oxford questo è il percorso storico e l'insegnamento del diritto non era ritenuto meritevole di essere assunto nel cielo universitario è puramente un insegnamento professionale che viene impartito all'interno del corpo professionalizzato poi diventa diventa studio accettato nell'ambito scientifico ma un residuo di tutto questo almeno nel mondo e nella terminologia inglese americana lo trovate nel fatto che si usano due formule che ormai si sovrappongono sostanzialmente ma sono il residuo storico di quel problema in alcuni casi negli Stati Uniti soprattutto si parla di faculty of law e in altri casi di school of law perché all'origine questa professionalizzazione era ritenuta qualcosa importantissima socialmente ma non tale da poter essere considerata compatibile con un luogo non professionalizzante qual era l'università e questo ci porta a un altro problema quello della divisione dei ruoli sociali l'università come luogo della ricerca pura l'industria in genere il mondo dell'economia come il luogo della ricerca applicata oggi per molte ragioni tra queste molto importanti anche quelle legate alle dinamiche dell'economia queste due modalità di ricerca tendono a congiungersi all'interno dell'università e anzi i tempi si raccorciano molto il passaggio dall'acquisizione della ricerca pura la sua applicazione era in passato mediata da una serie anche di sperimentazioni sul campo e oggi viene raccorciato molto questo percorso soprattutto nei casi in cui la ricerca pura è stata finanziata da un soggetto che ha interesse a trarre benefici economici il più rapidamente possibile da ciò che la ricerca universitaria o comunque la ricerca pura ha portato questo ci porta all'altra considerazione sapere critico o sapere funzionale questo è un punto estremamente importante l'università sono luoghi di elaborazione del sapere critico non è possibile distinguere ricerca e valutazione critica non solo del risultato ma di tutto il materiale che mi viene messo a disposizione l'attitudine del ricercatore e dello scienziato è quello di porsi di fronte a ciò che gli viene dal passato non con lo spirito di chi lo deve accettare tramandare ma di chi lo deve valutare e rielaborare criticamente e se certo se lo valuta criticamente come un fatto da conservare trasmetterlo in quanto tale ma questo è il risultato non di accettazione dommatico autoritaria ma dell'esercizio del sapere critico le università sono luogo di sapere critico e lo sappiamo lo sappiamo perché l'università continua a essere tutto questo la storia questa recente ci dice che c'è un'interazione molto forte tra sapere critico dell'università dinamiche sociali di reazioni politiche è inutile che io vada perché lo sapete agli anni della fine alla fine degli anni sessanta quando partendo da Berkeley passando per Parigi e avendo a Torino una sua peculiare e precoce incubazione c'è la cosiddetta contestazione universitaria oggi le università sono ovunque nel mondo un luogo di sapere critico di resistenza a tutto ciò che è autoritarismo negazione della democrazia dalla Cina all'Iran è lì sempre il fuoco dell'attenzione per la giovinezza di coloro i quali si trovano in quei luoghi certamente ma anche perché lì l'apprendimento non è un apprendimento passivo è un apprendimento critico non a caso quando dopo il maggio francese la Sorbonne una delle grandi appunto storie di successo dell'università viene dal governo Pompidou divisa in tredici le università perché è un po' la logica con cui il barone Osman aveva distrutto alcuni quartieri parigini aveva fatto i Gran Boulevard sui Gran Boulevard le manifestazioni si controllano meglio la gente non può fare la guerriglia dai vicoli tredici università sono più controllabili questo è un problema non a caso che accade in molti paesi appena c'è un sommovimento la prima istituzione che viene chiusa da un regime autoritario sono le università e nello stesso tempo le università sono un'importante istituzione come faccia o interfaccia della della società di nuovo faccio degli esempi tratti dalla mia esperienza momenti di grande successo delle facoltà di diritto negli Stati Uniti sono a ridosso di quella che è stata chiamata la Civil Rights Revolution quando negli anni 70-80 c'è questa grande espansione dei diritti civili che induce gli studenti a iscriversi con un'idea di modernità di public commitment di impegno civile e sociale a queste facoltà come la vicenda in Italia di mani pulite provocò un boom di iscrizione alle facoltà di giurisprudenza perché lì le persone giovani è aperte al nuovo e all'impegno sociale ritenevano che avrebbero trovato strumenti e opportunità per rendersi utili alla collettività quindi ci sono dinamiche che investono le facoltà che derivano da queste dinamiche che sono dinamiche sociali dinamiche politiche che naturalmente il cyberspace l'internet amplificano notevolmente e determinano una sottrazione indubbia di potere ai corpi accademici se voi leggete per esempio quello che in anni molto lontani aveva scritto Ralph Darendorf sul grande modello uno dei grandi modelli della cosiddetta università umboldtiana aveva trovato una serie di correlazioni tra lo sviluppo della ricerca scientifica intesa in senso lato le facoltà scientifiche le facoltà umanistiche tra lo sviluppo della ricerca scientifica e le scelte fatte dai corpi accademici nel momento in cui decidevano di destinare le cattedre a un settore disciplinare piuttosto che a un altro se gli studiosi sapevano che in quel momento nel diritto c'era un grande investimento nel diritto civile e c'erano zero cattedre nel diritto penale è chiaro che gli studiosi tendono a svolgere la loro attività laddove c'era maggiore possibilità di carriera accademica quindi non guardiamo all'università soltanto nella logica di separazione che c'è stata e rimane per molto verso ma non tanto dall'influenza dalla pressione esterna interessata ma dal dal rapporto che si istituisce con il contesto all'interno del quale vive e naturalmente queste dinamiche che sono legate più alle dinamiche sociali che non all'autoreferenzialità accademica sono amplificate dal da internet che ci porta immediatamente a chiederci che cosa sia poi la libertà accademica perché il tema della università è sempre stato un tema di libertà libertà della ricerca e badate che se voi leggete le costituzioni tra ottocento e novecento voi trovate che fino a un certo punto il riconoscimento della libertà in questi settori è legata alla libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero ma c'è un momento una rottura recente rispetto a una storia millenaria che si ha quando nel 1919 viene scritta la costituzione tedesca della repubblica di Weimar dove compare una formula che poi voi ritrovate nella costituzione italiana la si dice l'arte la scienza e il loro insegnamento sono liberi la nostra costituzione più direttamente dice e più efficacemente dal punto di vista del linguaggio l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento allora voi vedete che non è più soltanto la tradizionale maniera di guardare alla libertà delle persone per quanto riguarda il loro pensiero ma si guarda alle modalità organizzative della libertà in un ambito specifico che è quello della ricerca e dell'insegnamento questo è il risultato di una battaglia lunga di cui le università sono state protagoniste non è che siano state sempre adesso lo dico ironicamente all'opposizione per carità le università sono state potentissimi strumenti per la trasmissione del sapere tradizionale per perpetuare le oligarchie per consentire ai ceti dirigenti di esercitare controllo però questo non è diventata la caratteristica è stata sempre considerata una deviazione una eccezione nei confronti della quale si doveva tenere un atteggiamento critico o un atteggiamento di rifiuto vero e proprio il risultato è questo l'autonomizzazione costituzionale dell'idea di università come luogo di libertà che è quella che io vi ho ricordato naturalmente il caso italiano in questo momento lo cito perché non me la sentirei di dire di tacerne del tutto non ci parla di un orientamento in questa direzione anzi ci indica una delle possibili risposte all'interrogativo di Charles Nesson sopravviverà l'università dandoci una risposta inquietante segnalandoci più rischi e mali che non opportunità cioè l'università che rischia di essere l'appendice più o meno nobile del mondo dell'impresa una variabile del sistema economico forse un parente povero e decaduto al quale si assicura una sopravvivenza più o meno dignitosa e la dimensione dell'università tecnocratica come appendice del sistema economico è uno dei possibili esiti del processo in corso naturalmente come luogo piuttosto di commesse e non di investimento in cultura di un lavoro per conto terzi e non di una creazione di condizioni culturali per lo stesso sviluppo economico c'è uno dei grandi luoghi comuni ma tutti i luoghi comuni in qualche modo riflettono una realtà che è quella della Silicon Valley voi sapete benissimo la valle del silicio ma nasce intorno a che cosa a un asse dove ci sono grandi università dove il territorio è stato ibridato dal lavoro di Stanford e di Berkeley quindi non c'è un nesso diretto che dobbiamo stabilire una funzionalizzazione laddove il sapere funzionale laddove c'è grande sapere grande ricerca si creano anche le condizioni per uno sviluppo autonomo non aggressivo non limitativo della autonomia e della libertà dell'università certo questa libertà di critica si espande su internet io credo che non sia corretto dire che l'era di internet si può descrivere come quella di una università diffusa certamente l'università viene messa nella condizione per un verso di essere più integrate attraversata dal mondo ma nello stesso tempo messa nella condizione di penetrare più profondamente nel mondo globale il problema dell'accessibilità sul quale tornerò tra un momento e il problema diventa dunque quello in questo clima e in questo contesto profondamente mutato come garantirne e salvaguardarne autonomia e influenza questo mi obbliga a una iper semplificazione dicendo ma quando parliamo di internet il mio tema è appunto questo l'università nell'era di internet ma che cos'è questo benedetto internet di cui parliamo descritto non nelle sue modalità tecniche organizzative ma nella dimensione pubblica culturale civile sociale primo è il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto secondo è un sistema di relazioni terzo è un luogo di redistribuzione o di creazione di poteri questo è internet è stato detto prima ed è un tema importantissimo in questo senso che la salvaguardia del cyberspace appartiene alla logica lo dico sbrigativamente così come era stata accennata nella conversazione tra Juan Carlos De Martín e Charles Nesson la tutela di un ambiente però c'è a mio giudizio una differenza molto forte tra l'ambiente naturale e l'ambiente di internet guai lo dico con grande sincerità guai a considerare internet come un ambiente naturale da salvaguardare impedendo che chiunque ci metta le mani questo è un errore analitico ed un errore politico che ha portato per lungo tempo a ritenere incompatibile con internet qualsiasi norma che volesse anche salvaguardare la libertà su internet oggi noi sappiamo è stato anche ricordato di quanti attentati soffra internet limitazioni all'accesso controlli sui contenuti trasformazioni forti nel senso dell'accessibilità soltanto attraverso la mediazione economica e allora le potenzialità di internet l'ambiente di internet come luogo della libertà richiede io lo dico sbrigativamente una cosa di cui mi occupo da molto tempo richiede una costituzione per internet cioè richiede che una serie di libertà che sono anche libertà nuove perché questo è uno dei risultati della riflessione libertà nuove che internet ci propone debbono trovare la loro salvaguardia e ritengo ne sono convinto per lunga esperienza che il ruolo dell'università oggi rispetto a internet è quello di essere attore di questa tutela dell'ambiente di internet come ambiente di libertà che richiede il congiungersi dei codici tecnologici il code indagato da Lawrence Lessig e i codici tradizionali del diritto però non nella dimensione repressiva del diritto penale ma nella dimensione di tutela e di ampliamento delle libertà che è quella del costituzionalismo moderno faccio adesso una citazione perché mi aiuta da un libro che non mi sembra il più riuscito di Manuel Castells quello su comunicazione e potere un libro molto impegnativo posso dirlo con grande modestia anche un po' pretenzioso nel tentativo di disegnare una teoria comunicazionale del potere ma c'è una citazione che mi serve per arrivare alle ultime cose di questo mio intervento scrive in questo libro Castells se il potere è esercitato programmando e collegando reti il contropotere cioè il deliberato tentativo di modificare le relazioni di potere si attua riprogrammando le reti intorno a valori alternativi questo è un grande problema aperto chi mantiene questa possibilità di una programmazione delle reti che non sia soltanto ispirata alla logica propria della tecnologia o alla logica del mercato lo dico senza spiriti polemici questo è un problema se noi accettiamo la premessa premessa che può essere variamente declinata che siamo di fronte a un potere che si costruisce e si esercita attraverso una struttura in rete della società dobbiamo renderci conto di quali siano i luoghi attraverso i quali valori alternativi a quelli che ho ricordato possano essere messi in campo di fronte ai rischi del riduzionismo economico e tecnologico l'università ha un grande compito quello di creare o mantenere le possibilità di riprogrammare anche qui è il sapere critico quello che mi arriva devo valutarlo criticamente mettendomi nella condizione di controprogrammare avendo buone anzi eccellenti opportunità che nascono dalla valutazione critica e allora internet diventa un punto chiave della società della conoscenza noi sappiamo che ormai le nostre società vengono sempre più e secondo me a buon diritto definite società della conoscenza e allora riprendo anche qui degli spunti che erano già emersi nella discussione sul public domain l'università io direi come agenzia globale della conoscenza naturalmente ci dobbiamo chiedere di quale conoscenza non di un sapere l'ho già detto parcellizzato finalizzato solo allo sviluppo economico appropriato da gruppi ristretti ma conoscenza come bene pubblico globale che pone come common che pone alle università un grande problema per esempio fino a che punto il sapere prodotto all'interno dell'università può essere immediatamente e totalmente messo a disposizione di questo mondo senza confini può entrare a far parte a pieno titolo della conoscenza oppure deve accertare i passaggi le mediazioni che sono il brevetto il diritto d'autore comunque dei passaggi che introducono un elemento di economicità all'interno della conoscenza quando è stata chiesta una definizione a Charles Nelson ha detto l'accesso libero questo è un passaggio essenziale perché è la società della conoscenza e se l'università mantiene questa funzione di produttore in primo luogo di conoscenza attraverso la ricerca ma anche attraverso l'insegnamento l'insegnamento inserito in un contesto in cui la ricerca mantiene il suo valore fondamentale è un elemento formativo di questo spazio pubblico e naturalmente però i blocchi che possono intervenire nell'accesso a questo bene pubblico globale creano uno dei problemi che abbiamo di fronte a noi concludo non pensando che ci sia una conclusione a questo mio discorso ma perché bisogna che io nel giro di cinque minuti perché questi sono i tempi che voglio rispettare i tempi giusti e volevo darvi qualche ulteriore elemento di pura riflessione primo l'università come luogo di produzione di ciò che non ha immediata redditività di sapere critico di sapere disinteressato di salvaguardia della diversità noi abbiamo parlato molte volte di parcellizzazione però questa parcellizzazione è stata funzionalizzata alla finalità di avere una università iperprofessionale io parcello il sapere perché così quando esco saprò immediatamente fare quella cosa poi magari non fare nessun'altra io penso a un altro tipo di partizione universitaria quella per esempio che porta alla critica ahimè diffusa dalle nostre parti ma quell'insegnamento noi lo sopprimiamo perché nell'ultimo anno quell'insegnamento ha avuto soltanto sette studenti ma questi sette studenti può darsi che abbiano seguito un corso che non può essere cancellato dal panorama culturale perché è un corso che evidentemente non attira l'attenzione delle masse l'università è diventata questo ma che è essenziale allo studio all'approfondimento alla ricerca scientifica perché faccio questo riferimento perché la dimensione globale ricrea una comunità di studiosi ci sono nel mondo le dieci persone ciascuna con sette studenti che testimoniano però del fatto che c'è non un retaggio soltanto del passato può essere invece un'apertura sul futuro che in quel momento non ha ancora riconoscimenti quantitativamente significativi ma che deve essere salvaguardato questo rilegittima questo tipo di lavoro e gli garantisce la sopravvivenza sottraendolo a queste considerazioni a queste valutazioni puramente quantitative ed efficientistiche un professore vale ed è mantenuto se mi produce 50 persone che seguono il suo corso io ricordo benissimo anni lontani fui molto sorpreso quando andai per la prima volta a Stanford per un periodo e vedevo al momento del lunch tutti i giorni un conciliabolo tra i professori che non avevano la pienezza della teme o diremmo noi della cattedra ben incardinata che cosa si dicevano si chiedevano ma oggi tu quante persone avevi a lezione perché temevano che un numero ridotto di studenti avrebbe indotto l'amministrazione e l'università a non rinnovare il contratto alla fine dell'anno quale che fosse stata la qualità del loro insegnamento ecco nel momento in cui nel mondo globale noi possiamo riconoscere e rilegittimare questo tipo di sapere disinteressato che non è solo quello di nicchia evidentemente ho fatto l'esempio estremo quello che sembrava distruttivo della comunità la ricostruisce non come virtualità pura ma come rete di relazioni tra coloro i quali svolgono un tipo di ricerca che non può essere per ragioni culturali completamente cancellato secondo un'altra gerarchia culturale io ho detto prima come la gerarchia classica ho fatto l'esempio banale della tesi di laurea della bibliografia e dell'accesso a internet ma oggi ci sono altre gerarchie culturali c'è una gerarchia culturale gerarchia della conoscenza affidata all'algoritmo inconoscibile di Google questo è un punto di estrema importanza che noi proprio perché si attinge conoscenza qual è il criterio in base al quale come voi sapete uno dieci di settecentottantamila perché quelli sono nei primi dieci posti non si pone un grande problema culturale di proporre gerarchie culturali non in polemica con Google ma mostrando come ci sia una complessità che sfugge a quel tipo di tecnologia e che tutto sommato recupera una logica profonda dell'università l'inconoscibilità dell'algoritmo è in contraddizione con l'università come luogo dell'apertura e non della chiusura della trasparenza e non dell'appropriazione occulta del sapere questo è un problema così come è un problema Wikipedia è stato già ricordato non ci voglio tornare dico semplicemente che il metodo wiki emblematico per mettere in evidenza le potenzialità e le risorse di una comunità allargata deve essere questo metodo messo a frutto anche dall'università ma di nuovo sono le modalità che noi dobbiamo prendere in considerazione e l'esercizio continuo del sapere critico ci può consentire di concludere poi c'è un altro tipo di conclusione che l'università non si scioglie su internet ma si presenta come una rete di istituzioni perché rimangono le università ci sono imperenne più fecondo e continuo dialogo tra loro questo è a mio giudizio il grande elemento di di novità che noi dobbiamo prendere in considerazione e lo stare in rete in modo trasparente liberi dai vincoli proprietari che limitano l'accesso al sapere un sapere che non ha un destinatario privilegiato ma una comunicazione a questo mondo globale definito come società della conoscenza e quindi l'università come struttura della trasparenza e della comunicazione del sapere la comunità degli studiosi e degli studenti allora pure questi non si dissolvono nel grande mare del ciberspazio ma si integrano in strutture comunicative che riconoscono un policentrismo e che non è solo fonte di separazione e di isolamento perché c'era questo dato nell'università tradizionale allora l'università io credo come attore globale noi lo dobbiamo considerare in questo senso una specie di motore permanente di confronto dialogo critica tutte attitudini che ovviamente internet rende più facili da sviluppare svincolate come sono l'abbiamo detto mille volte dalle costruzioni dalle costrizioni del tempo e dello spazio ma dobbiamo stare attenti che non si ricostruiscano condizioni di costrizione legate al denaro cito e della citazione che precede le mie ultime parole se voi leggete nelle prime pagine del libro di Lorenz Lessig il futuro delle idee lui racconta le difficoltà nate per l'estendersi delle logiche proprietarie per esempio nei film filmare una facciata o filmare in un interno una sedia disegnata da un architetto famoso ha portato a richieste di denaro dall'architetto che aveva disegnato la facciata o dal proprietario dell'edificio del designer che ha visto la sua sedia riprodotta in una sequenza del film conclusione come consiglio a un giovane regista di Hollywood tu sei libero di girare il film che vuoi a condizione che tu lo faccia con i tuoi amici e in una stanza vuota ecco noi non dobbiamo determinare un cortocircuito per cui l'accesso che è un punto capitale per internet per il sapere critico per un'università che è tramite nel senso che ho detto mi offre una chiave che poi mi apre una stanza vuota questo è il grande problema e questo è affidato all'università è affidata la provvista di ciò che io trovo nella stanza che apro grazie all'accesso che mi viene attribuito dunque un luogo di attore culturale non più autoreferenziale ma autonomo non vincolato a quello che viene chiamato con orribile termine portato da noi condizionato dallo short termismo cioè dall'orizzonte corto dell'investimento che deve essere subito remunerato ma dal tempo lungo lo spazio più largo mi dà anche tempo più lungo e questo è un recupero dell'idea della ricerca pura svincolata dal condizionamento economico e mi dà anche il fondamento di una cittadinanza culturale come precondizione della pienezza della cittadinanza io credo che ovunque nel mondo possiamo dire tranquillamente che la cattiva politica è figlia della cattiva cultura e allora internet ci offre la grande opportunità di una democrazia planetaria costruita senza forme di esportazione o di imposizione autoritaria ma conformemente alla natura di internet una costruzione della democrazia non come oggetto di contemplazione o di imposizione ma una costruzione continua a opera di tutti un po' d'acqua grazie grazie al professor dotà c'è tempo solo per eventualmente una domanda del pubblico per poi passare al coffee break c'è qualcuno che vuole fare una domanda un commento rapido se non è così grazie ancora e ricominciamo alle 11.50 in punto grazie andava bene no chiedevo a 18.50 inussir Agora vi 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 Yet vi 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 might vi 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 vi